Luigi Pirandello Incominciamo la nostra esposizione parlando della nascita di Luigi Pirandello che riteniamo essere significativa per capire un po' la sua figura e la sua persona Pirandello infatti nasce a Girgenti, allora a Grigento si chiamava così nel 1867 vicino a un bosco che dialettalmente veniva definito Uvushkudu Kausu cioè il bosco del caos e muore chiedendo di essere disperso al vento con le sue ceneri bruciate mi dice nudo e questo ci fa venire in mente il titolo dei suoi drammi che è appunto Maschere nude mi si avvolga nudo in un lenzuolo e aveva chiesto anche di riposare in quella sua casetta del caso del bosco insomma in cui era nato lui era morto nel 1936 a Roma ecco all'interno di questi due termini si svolge una vita abbastanza tranquilla lineare di Luigi Pirandello almeno fino al 1897 quando ci furono i dissesti finanziari della sua famiglia che colpirono in particolar modo la psiche della moglie un'altra cosa significativa che fece Pirandello fu quella di essere insignito del premio Nobel nel 1934 soprattutto per la grande fama che riscossero i suoi drammi era più conosciuto allora per il teatro che non per la narrativa un'altra cosa che vorremmo dire sulla biografia di Pirandello riguarda il rapporto un po' ambiguo di Pirandello con il fascismo però possiamo capire il motivo per cui Pirandello in un primo tempo aderisce al fascismo questo dovuto alla sua inesorabile tensione verso l'ordine caos e ordine quindi sono le due parole chiave che abbiamo scelto per sintetizzare la vita di Pirandello nel caos nasce decide di morire ma vi è questa tensione per via degli opposti estremi vi è questa tensione all'ordine che trascorre tutta quanta la sua vita quindi la ricerca della razionalità da una parte e la pazzia dall'altra insomma Pirandello aderisce in un primo tempo al fascismo ma non partecipa mai ad alcuna cerimonia pubblica del regime benché anche se è invitato più volte Pirandello, adesso vedremo, mette a nudo il vuoto e la falsità di un mondo fondato su ciò che appare e quindi evidentemente non può essere in linea con un regime che fa della retorica e dell'apparenza e della propaganda uno degli strumenti fondamentali del potere iniziamo a sintetizzare alcune tematiche pirandelliane adesso all'inizio anche se poi quando alla fine trarremo un po' le conclusioni riprenderemo alcuni di questi aspetti quali sono le tematiche pirandelliane che percorrono tutta quanta la sua opera l'incomunicabilità perché ognuno quando comunica crede di avere di fronte un individuo che però in realtà è un altro quindi collegata a questa tematica della incomunicabilità di anche quella del relativismo il relativismo gnoseologico vale a dire non è possibile conoscere la realtà in modo oggettivo questo relativismo scaraventa l'uomo in un mare di tenebre e dà luogo a quell'esperienza che è stata chiamata della depersonalizzazione per cui l'uomo intermittentemente esce fuori da se stesso e sta a osservarsi cogliendosi in un punto tra fisico e metafisico di assurdità dice il giudice quindi inconoscibilità del reale depersonalizzazione e questo lo vedremo per esempio nel romanzo Il fumatì a pascal e poi la pazzia che scardina le convenzioni borghesi lui, abbiamo detto fa un'esperienza diretta della pazzia in famiglia a causa appunto della moglie che verrà anche internata in un manicomio questa esperienza acuisce in lui una sensibilità su questo argomento e soprattutto sul fatto che i pazzi non sono solo quelli che si trovano dietro le sbarre di un manicomio ma sono anche quelli che appaiono normali e spesso anzi vi è una sorta di scambio fra quelli che sono considerati pazzi e quelli che sono considerati normali scambio di ruoli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti